Un incendio si è verificato questa mattina nella pineta di Campolongo, lungo la litorania di Eboli. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, con numerose squadre e le forze dell'ordine. A far scattare l'allarme sono stati gli automobilisti, che hanno notato il fuoco tra gli alberi, e senza temporeggiare hanno alertato i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine invece hanno avviato le indagini per appurare se si è trattato di un episodio deloso, e sono al lavoro per acquisire indizi in tal senso. Bisognerà accertare se ci sono testimoni del ruoco e se qualcuno ha notato persone a girarsi tra la pineta mentre sono divampate le fiamme. Gli investigatori sono al lavoro anche per appurare se a ridosso della pineta ci sono telecamere che abbiano ripreso le fasi del ruoco, ma molto probabilmente in Litorania non esistono occhi elettronici collegati con il sistema di videosorveglianza comunale, e resta quindi da verificare se esistono videocamere private dinanzi le abitazioni o strutture di cittadini. Purtroppo non è la prima volta che in Litorania si verificano roghi che hanno devastato la pineta, dove di sicuro occorrerebbe più vigilanza.